Commento con una delle grandi protagoniste di questa sfida che è Federica Stolopo. Fede, complimenti intanto. Grazie, grazie mille. Ci avete creduto, avete dato fuori un grande cuore, avete rimontato, beh, è vero risultato. Sì, assolutamente, siamo state messe in difficoltà, abbiamo faticato soprattutto all'inizio nella comunicazione tra di noi. È migliorata molto, ci abbiamo creduto, palla dopo palla, non abbiamo mollato niente, il risultato poi ha parlato. Beh sì, è una crescita ulteriore, Fede. Sì, 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 è una crescita, poi abbiamo visto anche stasera quanto è importante l'apporto di tutte le ragazze, perché anche Alessia che è subentrata ha fatto molto bene, doppio cambio, quindi siamo importantissime tutte e abbiamo bisogno di tutte per riuscire a portare a casa i risultati. Complimenti Federica, brava, grazie.